Sì, è la cosa più importante che ho al mondo. L'unica cosa che ho. Vorrei che proteggessimo tutto questo. Mi è successo un piccolo problema giù in cantina. Che è successo? A te è capitato mai di avere come dei vuoti di memoria? Da quanto tempo sei qua? Ce l'avete messa voi? Sì, è una carogna, signora. La famiglia perfetta.